Bismillahirrahmanirrahim Ciao ciao Cominciamo Frasi da usare ogni giorno Jumal istighedim al-Yawmi 1. Lui è lento Lei è lenta Lui è lento Lei è lenta Hòa batìa Hòa batìa 2. Lei è forte Lui è forte Lui è forte Lui è forte Hòa kawì Hòa kawìa L'hazene lento aggettivo Ma lui baschile a khadet o Hina adgettivo Lenta Ma lei A khadet a Lekin forte La stessa O lo stesso adgettivo O la stessa parola Con lei E con lui Nafs ilkelima Temshi ma Femigile Lei è forte Mascile Lui è forte D'accordo Fè fì qul mera Zaa aqom bihadi l'harka Hade L'alame haade Zaa a dulli Alla O lei O lui Jujamo per esempio Lui è dè vole Lei è dè vole Lui é dè vole Zaa fe Ge re Ok Lei è bello Lei è bello Lui è bello Lei è simpatica Lei è brutta Lui è brutto Lei è brutta يعni, è una cosa o un'amale è una cosa Ok? Ok? Lei è gentile Lui è gentile L'aggettivo è gentile Lui è femminile e maschile Ok? Lui è cattivo Lei è cattiva يعni, è un'amale è una cosa Ok? C'è un'amale o c'è un'amale o c'è un'amale Lei è calma Lui è calma è è è è è è è Ho è è Dicci è timido è timida Hova chagul Hiya chagula Fì quel mara raggiunta aقول lui Lei è lui Lei ma è chagul Fì, è un'amale lì è lui Ok? Fì l'Italia l'amale è l'arabia Chagul D'accordo? È intelligente È intelligente Lui o lei Fatma è intelligente Ali è intelligente D'acchi? Numero dodici È paziente È paziente C'è un'amale C'è un'amale C'è un'amale Femminile Maschile È pigro È pigro È pigro È che è sul È pigra È che è sulla Quattordici È rapido È seria È rapida È seria Bisogna D'agrire D'agrire La O D'agrire La Quinti C Raccum 15 È Maleducato È Maleducato O È Maleducata يعني ليست متربia Ok? Non ha raffi L'amale 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 L'arabia متربia ليست متربia ليست خalukha ليست أخلاق لم يربوها أهلها أو أهله سامحوني في هذه العبارة E Sario Sario è giudì o 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 è giudì Dimmi A khberni, dìmmi Sei fortunato Sei fortunato Sei fortunato, sei fortunato Sei fortunata, sei fortunato Non puoi dire che è fortunato O è fortunato In questo modo, possiamo dire Io sono lento Tu sei lento Lui e lento Noi siamolenti Plurale di oi Alla dà attraffo Atmane a noi Nontrò di questo Toghèrò il dàmèr Noghtèlfè O è giudì Noghèrò il dàmèrò Noghèrò il dàmèrò Noghèrò il dàmèrò Plurale Femini le plurale Femini le singolare Noi, voi O è giudì D'accordo? Nargià Basta così Basta così Numero 20 Grazie per tutto Grazie per tutto Passiamo a Uno È sofisticato È sofisticato È sofisticata È sofisticata C'è te l'alline Ghez Mutattawr O è la mutattawr La macchina è sofisticata Ok? O è il libro Libro sofisticato Mutattawr Raki C'è te l'alline È coraggioso È coraggioso يعni È coraggiosa È coraggiosa È coraggiosa È coraggioso Siamo coraggiosi لو كنا كنا أولad Siamo coraggiosi لو كنا كنا بناt E' povera E' povero Vua faqir Numero 3 Numero 4 Attento Attenta Entebihi Numero 5 Fa' attenzione Quando guidi Fa' attenzione Quando guidi Entebihi Numero 6 Puoi tradurlo Per me Puoi tradurlo Per me E' usare una domanda qui Ok? Puoi tradurlo Per me Yumkino Tarjamat Lì Roma È diversa Da Dubai Roma È diversa Da Dubai Roma È mختلفa Da Dubai L'argo Hina Kona Da Vole Hina Mختلفa Anka Hina Kona Io Sono Diversa Da T La mia amica Alia È diversa Da La mia amica Dalla mia amica Fatma Per esempio Da 8 Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare La Taqlaq Si è Nel Brit O Nel Wallet La taqlaq La taqlaqi Numero 9 Tutto il mondo Lo sa Tutto il mondo Lo sa Numero 10 Numero 10 Tutto è pronto Tutto è pronto Numero 11 Va bene Va bene Va bene Va bene Numero 12 Di tanto in tanto Di tanto in tanto Menuakten ila akhar Di tanto in tanto Di tanto in tanto Io guardo la tv Nel 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 Arriba presto Timshi Ma'lui Ma'lai Hoa Yassiru Vakiran Ok Arriba In retardo Nel Arriba In retardo Arriba In Retardo In retardo Arriba In retardo Arriba 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 Ma senza detto se è grazie Se volete Masci Quindi Ragione Serie Non è Chiarato Numerzo 17 Di Di ma'ho l'haq, ola hai torto, enta leisa ma'aka l'haq, hai torto ok numero diciotto, lei è molto noiosa lei è molto noiosa lui è molto noioso lui è molto noioso يعni, lui è molto ok passiamo a è famoso è famoso ma'hoa mishhoor è famosa, hiya mishhoora numero due come va il lavoro? tutto bene? kif had al'amal? quello b'khir? come va il lavoro? tutto bene? numero tre sbrigati esra sbrigati 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 numero quattro oja manjato oja manjato oja manjato quando ho detto oja manjato quando ho detto non o an kora manjato non ho ancora manjato cinque non ti sento ripeti non ti sento ripeti l'am asma' ad numero sei vorrei fare una passeggiata vorrei fare una passeggiata vorrei fare una passeggiata che vorrei do a come di jowla sette non so come mi servo 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 numero dieci non parlo bene non parlo bene che non ti capisco non ti capisco non ti capisco non ti capisco numero 12 non ne voglio non lo voglio l'ho nechad faqat non ne voglio la uridu minhu il pronome partitivo ne non ne voglio la uridu minhu non lo voglio la uridu hu ok non lo voglio numero 13 non voglio questo la uridu heva non voglio questo non voglio questo numero 14 non voglio disturbarti 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 numero 15 non mi sento bene la asha'u'anni bi khair 15 16 se avete bisogno del mio del mio aiuto ditemelo Se avete bisogno del mio aiuto, ditemelo. Se avete bisogno del mio aiuto, ditemelo. Lo tehtè giù, mu sa'adati, akbiruni. Ie, akbiruni be'edra, asce. Dite, verbo dire, fil'amr, con voi. Akbiruni, ni, hi e me, diteme, akbiruni bihi, lo. Diteme lo, me lo, hedi c'ma pronomi kombinato. Yani, ish, yani, qarrabna pronomi diretto, ma'l pronomi indiretto, asfaha pronomi kombinato. وهne anna, k'l pronomi indiretto hua hedi, hedi ma'atala n'a quulu, diteme. Lo, jani, asce. Lo, hua il pronomi diretto, me, hua il pronomi indiretto, ame. Ok. Se avete bisogno del mio aiuto, ditemelo. Diciasette. Dal lavoro, eccolo. Esco dal lavoro alle sei. Esco dal lavoro alle sei. Esco dal lavoro alle sei. Numero diciotto. Numero diciannove. Vi spero un buon viaggio. Vi spero un buon viaggio. Estudio. Deraisee. Tyebba. Ok. Quanti, ma'è cullukum ila liqqa, we're going to the chat, la'e, 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 la'e. Numero uno. Lei è simpatica. Sei. Lui è brutto. Lei è brutta. Lui è brutto. Lei è brutta. Sette. Lei è gentile. Lui è gentile. Otto. Lui è cattivo. Lei è cattiva. Nove. Lei è calma. Lui è calmo. Dieci. È timido. È timida. Undici. È intelligente. Dodici. È paziente. Tredici. È pigro. È pigra. Quattordici. È rapido. È rapida. Quindici. È maleducato. È maleducata. Sedici. È serio. È seria. Dici. Diciassette. Dimmi. Diciotto. Sei fortunato. Sei fortunata. Diciannove. Basta così. Venti. Grazie per tutto. Uno. È sofisticato. È sofisticata. Due. È coraggioso. È coraggiosa. Tres. È povera. È povero. Quattro. Attento. Attenta. Attento. Bazzabdi. Diani. Montabih. Mosh. Intabih. Montabih. O. Montabih. O. Hnei. Povera. Fakira. Tabi. Hnei. Hattit. Al-femini. La qabit. Hnei. Al-maskini. La qabit. Mosh. Mosh. Cinque. Fa attenzione. Quando guidi. Sei. Puoi tradurlo. Per me. Sette. Roma. È diversa. Da. Duba. Otto. Non ti priokupare. Non ti priokupare. Wala kadele. Kim kun kuul? Non priokuparti. Non priokuparti. Njibuti hediya. Wun hotta hena. Okei. Wala akin. L-ehi hedi. Taktifi. Wunakul. Non priokuparti. Wala. Non ti priokupare. Nafs il-ma'na. L-ehi. Ta-ghiya shayhan. Nove. Tutto il-mundo lo sa. Tutto il mondo lo sa. Numero dieci. Tutto è pronto. Numero undici. Va bene. Numero dodici. Di tanto in tanto. Numero tredici. Buona idea. Numero quattordici. Amo tutti i frutti. Numero quindici. Arriva presto. Wala. L-a. 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 Arriva in ritardo. Sedici. A ragione. Ai ragione. Diciassette. A torto. Ai torto. Tab'an ma noi. Abbiamo torto. Avete torto. Anno torto. Ma jami'a zame'ar. Tab'an. Wenta. Ficul vakt. Ficul marra. Tagay'a l'abamir. Wutat'sarra. Wutarja'a il video-héto l'quadima. Wudros. Ma ujuda'a l'internet. Khier jendel. Diciotto. Lei è molto noiosa. Lei è molto noiosa. Lui è molto noioso. Numero uno. È famoso. È famosa. 2. Come va il lavoro? Tutto bene? 3. Sbrigati 4. Ho già mangiato Non ho ancora mangiato 5. Non ti sento, ripeti 6. Vorrei fare una passeggiata 7. Non ti sento, ripeti Non so come mi servo Il verbo sapere Tu non sai, lui non sa, noi non sappiamo 8. Non è vero 9. Davvero? 10. Non parlo bene 11. Non ti capisco 12. Non ne voglio Non lo voglio 13. Non voglio questo 14. Non voglio disturbarti 15. Non mi sento bene 16. Se avete bisogno del mio aiuto, ditemelo 17. Esco dal lavoro alle 6 18. O mal di testa 19. Vi spero un buon viaggio 20. Vi spero un buono studio Grazie e alla prossima Grazie e alla prossima